È stata una giornata importante, non solo per l'organizzazione, ma per tutta la comunità, per le famiglie, per i ragazzi, i bambini. Grazie a un lavoro che è durato quattro anni, vorrei rimarcarlo, sono 500 mila euro di investimento, grazie ai fondi ministeriali che sono passati tra la Regione. È stato un percorso lungo, perché comunque sono aperti gli spazi nel 2015, poi c'è stata tutta la burocrazia, tutta la questione di partecipare al bando, l'inizio del lavoro è iniziato nel 2018, 4 anni comunque per arrivare a questo punto, c'è una grande soddisfazione da parte di tutti e devo dire che soprattutto ho quello che fa piacere vedere le famiglie, soprattutto i bambini, molto molto contenti, hanno un nuovo spazio, prima mangiavano in classe, adesso hanno uno spazio mesta, hanno un orto didattico, hanno un'aria gioca nuova, hanno tutte le aule rimesse a posto, una grande soddisfazione per tutti, un orgoglio per la città. Questo è un primo passo, ci saranno altri nastri da tagliare nelle scuole nelle prossime settimane? Direi di sì, c'è un grande lavoro che è stato fatto, lo abbiamo sempre detto, abbiamo investito 8 milioni di euro e adesso finiscono tutte le varie edifici scolazzi, siamo credo prossimi a Coldirodi, poi si andrà a Daniscaini, ci saranno tantissimi altri nelle prossime settimane e andremo a inaugurare insieme alle famiglie, insieme a tutti, perché questo traguardo è grazie al lavoro, non dimentichiamolo, anche ai nostri uffici comunali che si sono impegnati molto per arrivare a questo punto, tutti insieme dunque per dare alla nostra comunità un delle scuole, come giusto che sia, sicuramente più belle rispetto a prima.